bella raga nuovo door test enduro sotto la pioggia perché a diluvia dovevamo fare la prova da un'altra parte poi han cambiato perché diluviava ci siamo beccati la pioggia anche qui comunque fantic 2025 non ci sono tantissime novità nel senso niente moto nuove niente cambi epocali però ci sono tante piccole cose che vanno a diciamo far diventare più interessanti delle moto che abbiamo già provato e sulle quali ci avete chiesto un sacco di cose anche un sacco di pareri adesso vediamo come sono cambiate soprattutto la 302 tempi belle novità che sono state inserite 125 c'è un po di roba nuova e poi un paio di giri sul 3 10 perché perché io non l'ho ancora provato dai venite con me quindi cosa è cambiato in vista del nuovo anno sulla 125 arriva un nuovo impianto di raffreddamento che promette un'efficienza superiore del 35 per cento rispetto alla versione precedente nuovi convogliatori rivisti per offrire una superficie d'appoggio più omogenea nuovo faro anteriore e il nuovo parafango sempre anteriore che debutta su tutta la gamma e che promette di essere più resistente alle sollecitazioni in caso di fango sulla 302 tempi non è cambiato nulla o almeno questo è quello che si potrebbe pensare guardandola perché i tecnici i tester di fanti che hanno fatto un lavoro molto intenso sulla parte software intervenendo sull'iniezione per rendere l'erogazione più morbida omogenea e corposa soprattutto ai bassi sulla 3 10 invece non cambia nulla ma come ho detto non ci sono ancora saltato in sella e siccome conosco bene la xf 250 non posso non provarla ultimissimi i prezzi 8.990 euro per la 125 10.390 per la 302 tempi e infine 10.790 per la 3 10 ora partiamo con il nostro door test bene door test finito in realtà vi avevo raccontato tutto direttamente lì alla pista di montagnana ma non abbiamo registrato l'audio c'è stato un piccolo problema e quindi niente devo ridirvi tutto da capo beh allora prima di tutto il contesto siamo stati un po sfortunati con il meteo come penso si vede anche dalle immagini ha piovuto praticamente tutto il giorno cosa che in realtà non ha dato fastidio tanto durante la guida a parte un po il mattino che non si vedeva benissimo però niente di che più che altro ha andato un po a cambiare tutto il tipo di giornata dovevamo fare la prova da un'altra parte con un vero diciamo percorso enduro qui invece c'era la pista da cross e un fettucciato che però era anche quello lì una sorta di pista da cross alla fine la vera pista cross di montagnana si è prestata un po meglio per il test perché era un po più bucata c'era qualche canalino insomma di là non c'erano canali non c'era niente non ci ha girato praticamente nessuno io ci ho provato un po a girare però non avrebbe dato delle grandi risposte al fine del test perciò passiamo con quelle che sono le considerazioni prima di tutto ho provato mi sono concentrato sulle tre moto che hanno portato più novità comunque novità più significative per il 2025 quindi la 125 che abbiamo detto con i nuovi convogliatori sistema di raffreddamento nuovo la 300 che è stata completamente rivista tutto il discorso di carburazione soprattutto un discorso di mappatura e infine la 310 che non è cambiata in realtà più di tanto rispetto al 2024 ma non ci siamo mai veramente concentrati su quella moto l'aveva provata a simo quando è stata presentata la prima volta qui in alto vi lascio il test dell'anno scorso però dai ci sta a fare un po un piccolo approfondimento di nuovo e comunque era l'unico quattro tempi più giusto tra virgolette da provare di quelli che c'erano con un po più fresco rispetto agli altri quindi ho detto ok ci salgo sopra andiamo con ordine e partiamo quindi dalla 125 beh il cambiamento più grande quale ci si accorge sicuramente sono i nuovi convogliatori molto molto bene perché si scorre meglio con le gambe con le ginocchia quando si è sui tutori non ci si incastra più cosa che prima un pochino capitava alcune volte e sicuramente mi ha dato un'impressione di essere un po più omogeneo quando si va a scivolare in avanti per fare la curva quando si tira fuori il piede insomma quando c'è da muoversi un po in sella nonostante sia un fino più larga della precedente però secondo me il miglioramento c'è stato per quanto riguarda l'impianto di raffreddamento beh la giornata è stata abbastanza fresca dire quindi non siamo più riusciti a provare l'efficacia del nuovo impianto dicono che migliora del 35 per cento bene sicuramente se fosse così bisognerebbe provare la moto quando fa veramente tanto caldo perciò vedremo di saltarci in sella in futuro oltre questo beh che dire la moto ci sono stati dei ritocchini anche a livello di motore proprio poca roba però bella mi piace c'è io di quel telaio qui quello che monta la Fantic 125 che poi in realtà è quello che monta anche la 300 sono follemente innamorato bellissimo con poi le Kayaba si sposa veramente bene per me non c'è niente di meglio mi piace proprio e ti dà tantissima confidenza mi piace la posizione di guida in manubri comunque la scelta che è stata fatta in Fantic non mi dispiace affatto anzi è molto racing manubrio con una piega abbastanza bassa la sella forse un po morbidina però c'è un bel grip sono proprio sopra bene in sella e a livello di motore 125 rispetto a qualche anno fa si conosce bene il motore si sa deriva comunque derivazione Yamaha siccome ha iniziato a girare un pochino più in alto rispetto a un tempo io ho corso tanti anni col 125 Yamaha appunto soprattutto la Fantic lo scarico una serie di cose ha cominciato a girare un pochino più in alto di una volta anche se rispetto ad altri sicuramente rimane un po più pieno in basso aiuta anche sicuramente nelle piste un po più strette quando è più scivoloso o magari chi non è particolarmente schivato non è abituato a due tempi che soprattutto al 125 che va tenuto tanto tanto in alto oltre questo beh rimangono soli i freni Nissin per me molto molto bene continua a piacermi tantissimo il fatto che anche non siano troppo aggressivi nell'attacco e ultimo discorso mappature mappa 1 mappa 2 devo dire che continuo a non sentire una grande differenza tra le due mappe ci sta lavora sugli anticipi la moto a carburatore quindi ci sta questa cosa qui non c'è una grandissima differenza 302 tempi beh questo è la protagonista diciamo di questo door test perché ero molto curioso di scoprire come avesse lavorato infantic per sistemare magari qualche problemino di giovinezza che ha avuto quando è stata fatta uscire perché lo ricordo l'abbiamo provata nel nostro dortmatch 302 tempi enduro ve lo lascio qui in alto se volete scoprire come è andata che dire la moto mi è piaciuta tantissimo di ciclistica l'ho detto prima anche con la 125 con la quale condividi telaio e sospensioni per me da paura tra l'altro l'ergonomia della 300 è meglio in realtà perché hanno studiato è un po' diversa come telaietto le plastiche e i convogliatori avevano già debuttato sulla 300 posizione di guida veramente molto bene è l'unica che aveva questo serbatoio ora arriva anche sulla 125 appunto mi sono dimenticato di dirlo prima però insomma come ergonomia mi piace veramente tanto limiti come ergonomia e come ciclistica anche come si comporta da guidare la stringi bene con le gambe è molto leggera la moto riesce a controllarla bene le fai fare quello che vuoi è bella rapida nei cambi di direzione dove un po' peccava era nel motore nel senso che aveva questo motore che sopra volava andava fortissimo tuttora va fortissimo ma il problema è che prima sotto non c'era corpo faceva fatica a venire fuori dalla curva dove aiutarti un po' con la frizione poi a un certo punto entrava in coppia ti strappava via le braccia è molto complicata da usare adesso invece sembrerebbe che abbia fatto uno step veramente importante a livello di motore perché sotto è un po' più corposa un po' più elettrica direi è più pulita l'erogazione della moto dal passaggio soprattutto da bassi medi e alti c'è meno scalino quindi la moto continua ad andare molto forte in alto però non ti strappa più le braccia quando c'è la curva è bella lineare lì dai gas lei ti viene dietro piano piano sale se vuoi aiutarti un pochino con la frizione soprattutto in condizioni come quelle dovranno noi quindi in pista cross c'è l'appoggio c'è il canale giusto c'è spazio per far correre la moto beh lì allora viene fuori veramente tanto bene mi piacerebbe riprovarla sicuramente in un contesto più enduristico dove c'è da tenere la marcia proprio da tenere il motore veramente basso di giri e poi aspettare sentire che ti tira fuori dove si fa lavorare tanto sotto coppia cosa che ovviamente in pista cross non succede vediamo sarei curioso di capire lì quanto sono riusciti a rendere questo motore più trattabile più diciamo rispettoso dei cannoni odierni dell'enduro soprattutto sulle grosse due tempi quello che posso dire che beh sul viscido anche un po in curva vista quando devi parzializzare un po gas comunque veniva fuori bene perciò secondo me hanno fatto un bel lavoro soprattutto per quello che riguarda l'utilizzo infettucciato anche qui il discorso cambio su invece sulle due mappature sulla 300 mi piace anche qui non si sente tantissimissimissimo la differenza magari sono moto di più però ovviamente essendo in iniezione riesci sono riusciti infanti a lavorare più di fino sull'elettronica sulla gestione delle mappature e qui in effetti si sente con la mappa web allunga un po di meno dovrebbe avere un pochino più di corpo in basso però è abbastanza vicina alla standard anche perché poi la standard è un po più svelta a salire di giri e sviluppa meglio la potenza quindi anche in questo caso io mi sono trovato molto meglio con la standard per il resto che dire vedremo sono curioso di riprovarla sicuramente in mulattiera magari o nello stretto 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 davide guarneri guarna mi ha detto che è una l'unica sono una delle poche 302 tempi da enduro che può essere usata in prima quindi sarà interessante vedere cosa sono riusciti a fare cosa hanno tirato fuori infantic ultima moto del nostro door test 310 l'ho detto prima è quella che tra le tre presenta meno novità di tutte in effetti non è che sono andati a toccarla tanto è uscita però l'anno scorso io ero curioso di saltarci in sella anche perché lo sapete abbiamo qua una due e mezzo la dirt bike ero curioso visto che non avevo ancora provato la 310 di capire quanto cambiava mi sento di fare i miei complimenti a fanti che per come hanno lavorato sulla moto o meglio per la loro interpretazione del 304 tempi di enduro mi spiego meglio perché oltre alle 300 di quattro tempi di serie alle tre e mezzo che sapete che escono così dalla fabbrica anche questa in realtà però difatti è un due e mezzo che monta un kit per aumentare la cubatura del motore ci sono altri motori di altre marche che invece vengono sviluppati diversamente ma comunque rispetto a quelli che ho provato soprattutto con kit atena finora secondo me infantic hanno fatto veramente un gran lavoro so che hanno lavorato tanto per adattarlo per adattare il kit che vanno a montare il quanto più possibile alla propria moto e devo dire che ci sono riusciti la differenza rispetto al due e mezzo mi viene da dire che è abissale cambia completamente il carattere del motore due e mezzo è una moto che ha bisogno di un cambio marcia molto veloce continuo all'interno di qualsiasi tipo di tracciato dove si va magari sotto un po più vuota ma arriva a mura molto presto arriva spesso e volentieri al imitatore quindi bisogna essere pronti con la cambiata non è super precisa in tutte le aree quello che invece è stato fatto con la 310 è dare al monocilindrico al motore più piccolo canno infantic 4 tempi molto specialistiche molto più corpo in basso di far sì che il cambio marcia non debba essere così repentino quindi si riesce a tenere un po di più la marcia a far morire un più la moto perché poi riprende c'è tanto corpo tira una bella una bella coppia c'è anche una buona trazione devo dire o meglio distribuisce bene la coppia è molto morbida e soprattutto poi invece quando si va ad aprire ad andare un po in alto nella zona alta diciamo del contagiri ecco lì permette di tenere la marcia un pochino di più come motore rimane sempre molto motore che spesso e volentieri arriva al imitatore e gira un po così ma lo sappiamo questo motore cilindro rovesciato anche qui derivazione di yamaha è quello è fatto così è una sua caratteristica però sulla 310 rispetto alla due e mezzo si riesce a tenere un po di più la marcia magari non sei subito col collo tirato questo motore che quindi arriva più corposo con erogazione più lineare permette un range di utilizzo più ampio secondo me equilibria meglio e qui da un maggiore equilibrio anche a tutto il pacchetto ciclistico la moto a me non dispiace è una moto che mi è sempre piaciuta tanto però ormai devo dire che rispetto ad alcune concorrenti comincia a sentire il peso degli anni a livello di ciclistica distribuzione pesi è un avantreno abbastanza pesante la senti è comunque una moto che devi guidare con un po di fisico ad esempio io che sono comunque abbastanza magro non peso tanto faccio un po fatica come ho sempre fatto a impormi sulla moto allora rispetto ad altre moto lì comincio a soffrire un po di più niente da dire sul pacchetto sospensioni perché ovviamente Kayaba lo sapete per me non c'è niente di meglio anche se sulla 310 devo dire che hanno scelto rispetto alla 300 ma soprattutto la 125 un setting più molle in realtà il setting della 310 è più sostenuto rispetto a quello della 300 ad esempio due tempi però risulta più morbido perché la moto pesa di più ha una distribuzione dei pesi diversa allora in questo caso lei l'ho proprio chiuso tutto tutta la compressione della forcella ho velocizzato un po ritorno quindi l'ho aperto un pochino per far sì che tornasse più in fretta la forcella e dietro anche ho chiuso di tre click se non sbaglio la compressione per far sì che non andasse a ondeggiare troppo anche lì ho aperto un po ritorno per cercare di tenere la moto un po più precisa soprattutto sulle bucchette quando c'era un po di fango in uscita di curva tendeva a scomporsi molto quindi ecco a livello ciclistico di guida rimane un po più pesante anche qui mi piace il fatto che abbiano scelto un manubrio abbastanza basso in questo caso racing si sente mi piace belle le pedane tantissimo grip però la senti che è un po pesante i convogliatori allargano tanto soprattutto quando vai a tirar fuori il piede te ne accorgi magari in questo caso c'era una curva a sinistra dove stavi un po col piede fuori e lì lo senti che tende ad allargarti un po c'è questo peso davanti la moto comunque un po macchinosa però come erogazione se la metti in un fettucciato anche tutto curve con i canali allora lì dal meglio di sé e lì mi piace proprio tanto a guidarla quando entri dentro nel canale mi dà una fiducia da appena dopo ingresso proprio metà curva micidiale e mi piace poi come esce dalle curve se sono settate bene le sospensioni che tra il tipo di trazione che da come ti porta fuori il feeling che ritrasmette ultima anche qui elettronica beh sicuramente quella dove si avverte di più il cambio di mappa mappa soft quella blu è veramente molto molto morbida per la pista cross sicuramente non va bene sul bagnato un po può aiutare ma secondo me va un po soffocare il carattere della moto perché rispetto ad altri quattro tempi attuali ha un'erogazione cosa che poi succede in realtà anche sul 302 tempi è viva un po sporca ma per me positivamente non è troppo elettrica senti esattamente che cosa stanno facendo le moto come rispondono al gas sono vive diciamo no e questo a me piace molto come caratteristica quindi una volta che metto anche sulla 310 mappa verde quindi la standard mi tira fuori bene da un bel motore allunga bene per essere una moto da enduro soddisfacente anche nell'utilizzo in pista da cross diciamo sempre i telai in alluminio sono telai da cross non è propriamente così però siccome la maggior parte dei casi vengono riconosciuti come tali beh in pista cross sicuramente danno il loro meglio magari rispetto ad altre configurazioni che esistono nel mondo dell'enduro ultimissima cosa blocchettini sulla 300 e sulla 310 nuovi get molto belli funzionano bene hanno un bello switch la luce capisci bene rispondono molto velocemente al tatto i tasti cambia mappatura veramente in un secondo e ti fa capire anche bene con uno sguardo in che mappa sei non ti puoi sbagliare quindi molto bene ci arrivo bene questo è quanto penso di non aver più niente da aggiungere vi ho detto più o meno tutto quello che mi sono segnato nella mia testa purtroppo mi piacerebbe riportare soprattutto da 300 come vi ho già detto due tempi in un contesto più enduristico vedremo cosa riusciamo a fare però devo dire che mi sono anche divertito nel pistino across di montagnana con la moto enduro quindi se fate enduro sapete che con queste nel cross in un modo o nell'altro alla fine vi divertite sicuramente se avete qualche domanda curiosità volete approfondire qualche tema qualcosa nello specifico qua sotto nei commenti e sono a vostra disposizione grazie 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 grazie